Cosa c'è dietro le maschere? C'erano le persone? No, la persona in latino vuol dire maschera, quindi cosa c'è dietro le maschere? Lo suggeriva Pirandello, uno, nessuno, centomila, chi? Shakespeare diceva questo mondo palcoscenico dove uno sale e fa la sua parte, diceva fa una o più parti e brindiamo a Shakespeare. Però lui diceva, Shakespeare, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, ma i sogni, e qualcuno ha detto allora siamo in nulla, ma no, i sogni sono un'altra dimensione che noi viviamo un terzo della giornata, però siccome è invisibile due occhi, il terzo occhio vede e vive quell'altra dimensione. Allora chi c'è dietro le maschere? non le persone, ma gli spiriti che sono costretti dalla cultura a indossare una maschera. Quali sono i nostri dati? Dato dove sei nato, quando sei nato, quanto pesi, quanto sei alto, colore dei capelli, colore degli occhi, cioè l'aspetto maschera. ci sono degli attori molto bravi che si vestono, cioè li vestono, li truccano e diventano un'altra persona. Ho visto, perché siamo amici su Facebook, Laura Fiandra che saluto, che ha messo una foto del marito, Tullio, che è truccato da Govi, allora Govi era un moltissimi anni fa, 50 anni fa, un comico genovese, Tullio, il marito di Laura Fiandra, mi pare che è Laura Veggio Fiandra su Facebook, Tullio era quello con Marchesini, Lopez, il trio di comici, lui lo truccano sempre Govi e poi dopo un'ora di trucco, poi mezz'ora per struccarsi. è la maschera. Infatti il simbolo del teatro era una maschera che ride e una maschera che sta triste, no? Gioie e dolori, gioie e dolori. Ma già Krishna spiega gioie e dolori vanno e vengono come le stagioni, quindi basta abituarsi, no? Nel clima dove viviamo noi qui in Italia bisogna avere abiti leggeri quando fa caldo e abiti più pesanti quando fa freddo, basta saperlo. E poi c'è un periodo di mezza stagione in cui bisogna guardare la mattina che aria tira fuori, che tempo c'è. Quindi dietro le maschere ci sono gli spiriti eterni incarnati. Io sarei favorevole al teatro, ma non come palcoscenico e pubblico, come terapia di gruppo, il teatro andrebbe benissimo. I registi dovrebbero essere dei bravi, bravi, bravissimi esperti, conoscitori, maestri di psicologia. Perché vorrebbero vedere quello che tende a fare la vittima, fagli fare la vittima. Quello che sembra aggressivo magari non lo è, può fare l'aggressore. Quella che ha la faccia da mamma, la mamma del teatrino. Mi ricordo di aver incontato Peter Brook. Peter Brook ha lasciato recentemente il corpo. Peter, B-R-O-O-K, Peter Brook. Che aveva messo questo spettacolo che durava molte ore, il Mahabharata. Quando lo incontrai a Firenze, parlai con un attore italiano che faceva Arjuna, che mi disse io oramai dopo nove anni che faccio Arjuna mi sento Arjuna, che era l'amico devoto di Krishna nella Bhagavad Gita. e lui faceva questo coinvolgendo molto le persone. Il Mahabharata di Peter Brook. Cercate su internet, magari trovate dei pezzi. Ma il vero regista che mi ha affascinato, attore e regista, è stato quello del Living Theatre, il teatro vivente. E quello lì era veramente notevole. Lui era un personaggio, direi, storico. Perché aveva una comunità hippie. Forse sono nati da lì, che venivano tutti insieme. Facevano Paradise Now, il Paradise Now dove si spogliavano. Però avevano l'intelligenza che alcuni di loro si vestivano normali. e si mescolavano nel pubblico e da normali cominciavano a spogliare urlando amiamoci, amore, abbracci. E allora gli altri normali, vedendo che alcuni normali credevano nel paradiso adesso, Paradise Now, coinvolgeva tutti. Il suo teatro vivente era terapeutico al cento per cento. Bravissimo. Lui e la moglie Judith. Ma che cosa avevano queste persone? Avevano il desiderio di rompere lo schema, di non avere distanza tra loro e la gente. Tra loro è quello che viene chiamato banalmente il pubblico. Interessante, no? Quindi c'era un modo che io chiamo spirituale e terapeutico. Metto delle immagini, adesso vedrete delle immagini del Living Theatre che furono costretti a lasciare gli Stati Uniti minacciati dall'FBI perché l'FBI gli ha detto voi dovete andare via perché loro andavano a fare questi happening, adesso li chiamano flash mob happening, delle forme di intervento spettacolare e coinvolgente. e lo facevano alle metropolitane a 42esima strada. Sono state varie metropolitane a New York che si incrociano. Andavano una cinquantina di loro, era una comunità che vivevano insieme, con capelli lunghi, vestiti colorati, peace, love, meditation, pace, amore, meditazione. Altri, vestiti da impiegati con la valigetta, donne col tagliere, quelli di loro che facevano i normali, ad un certo punto aprivano le valigette, buttavano via i fogli, buttavano la cravata e coinvolgevano altri e bloccavano tra le sette e mezzo della mattina alle nove la metropolitana urlando vogliamo il paradiso adesso. e le FBA li minacciò, vennero in Italia e li incontrai. Era il periodo, fine anni 60, inizio anni 70, delle università occupate e quindi facevano questi interventi dove si occupavano. Dove alcuni di sinistra, quella sinistra di allora, quando vedevano un corpo seminudo si agitavano, però hanno avuto un grosso successo perché coinvolgevano la gente, via le maschere. Nel teatro, nel cinema, il costumista è quello che dà i vestiti insieme allo sceneggiatore, quindi via i costumi, li chiamano i vestiti. Io dico via certe abitudini e via certe paure create dai vestiti. Create dai vestiti. Il corpo nudo non è reato, il corpo nudo è naturale, sia che credi in Dio che l'ha creato, sia che è venuto fuori da un incontro tra varie energie dell'infinito. Comunque lo vedi, vedere il corpo nudo come reato è sbagliato. Chiaro che non è che tutti possono camminare nudi, però ci vorrebbero delle spiagge per chi vuole fare il bagno nudo o vuole prendere il sole nudo, ci vorrebbero. Come ci sono le spiagge libere? Andrebbe bene, no? Quindi dietro le maschere ci sei tu, il vero tu, cioè c'è il vero io. Abituiamoci a vivere senza le maschere. D'accordo? Io sono d'accordo, tu sei d'accordo. E' un esercizio di meditazione vivere senza le maschere perché poi qualcuno penserà male di te. Qualcuno sta usando Facebook, Youtube per parlare male degli altri. E qualcuno ingenuo fa, ecco, ci sarà un fondo di verità. Io non ho mai capito cos'è questo fondo di verità. Cioè se io dico che quello lì è un ladro, cosa c'è il fondo di verità? E' un po', allora perché lo dici? Perché esiste la maldicenza. Le male lingue, la maldicenza, la zizzania, la discoria, esistono. Però esiste anche la verità, la gioia, l'amore, la capacità di vivere senza maschera. Sono persone che sono state in ospedale e hanno trovato delle brave persone. Ci sono delle persone che sono state fermate dalla polizia stradale per un controllo e hanno trovato delle brave persone. Ci sono persone che avevano bisogno di portare una valigia in treno e hanno trovato brave persone. Ma quando uno dice ho trovato delle brave persone, perché è una rarità, tutti noi abbiamo il potere di essere bravi spiriti liberi incarnati in questo mondo materiale. Quindi bisogna capire se hai la maschera e capire come vivere senza la maschera e cominciare a guardare cosa c'è dietro le maschere. E perché la società del controllo ha creato le maschere e usa gli abiti, le abitudini, il linguaggio, i dogmi, i comandamenti, le regole che poi cambiano. Le regole di un paese che si definisce cristiano sono diverse dalle regole di una nazione che si definisce musulmano. Sono diverse. Quindi le regole non sono uguali in tutto il pianeta Terra. Il governo cinese non è favorevole ai buddisti tibetani. Da decenni uccidono, torturano i monaci, i lama, sia donne che uomini. E le Nazioni Unite sono lì unite da cosa? Qui sono maschere, maschere. Conosci le tue maschere? Perché molti ne hanno più di una. Ci hanno la maschera a casa, la maschera a scuola, la maschera quando escono di casa, la maschera quando vanno in vacanza, la maschera quando vanno a lavorare. E' un continuo cambio di maschera. Poi uno va in depressione, ma chi sono io? Lo Spirito Eterno cerca la compagnia delle persone smascherate. In death mean di neem najVEL. Sper cosa regalia. Bebblia non terrorali. Sperда, unulare può modo di differenza. Il piano è vero, è un piano.